Ascoltatevi Ascoltatevi Ma che è soffritto Ma a mangi? No, non ha dato pure la prende Non la prende? Perché sta a fare il video No, no, no Non la prende Oh Il video Ma io sei malato Pilastri Lampadari Suprammobili Comodini Signore e signori Buonasera La vita di Antonio Vieto Fai con la possibilità intervento Questa sera Il cielo si valorerà di magia Ciocchi di colori e fantasie Vi porteranno in un viaggio stellare Portando la luce in fondo al nostro cuore Dove è solo una maestria Puoi giungervi In fondo Come per le stelle Il cielo è il nostro palcoscenico Che lo sveglia con il mio inizio Buona visione E buona serata a tutti voi E buona Si In fondo O Il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.